Un caro saluto da Francesco Samani. In questa lezione desidero parlare della pedagogia e quindi della scienza dell'educazione ai fini della preparazione del concorso duemila e pezzi. E in particolare voglio parlare, voglio proporvi uno schema sintetico riassuntivo di John Dewey, ossia come rispondere a delle possibili domande relativamente a questo autore. Allora, secondo John Dewey, sebbene ci sono domande e risposte a molti, che cosa è per John Dewey la conoscenza? Allora, la conoscenza per John Dewey è il fare e l'agire. Quindi, conoscenza equivale e uguale ad agire. Qual è un aspetto fondamentale relativo all'apprendimento? L'esperienza. Qual è il fine ultimo dell'essere umano? L'uomo in realtà non ha un fine ultimo, ma la soddisfazione avviene, quindi soddisfazione nella continua attività. Che cosa deve accadere affinché la pedagogia possa essere democratica? Bisogna verificare l'apprendimento. Scusate se quando parlo posso commettere qualche errore di pausa o di pronuncia, sono in diretta live. Oggi ho cercato di fare più video perché è domenica e quindi ho più tempo perché non sto lavorando e quindi oggi sto cercando di creare del materiale che possa essere utile per i prossimi giorni. Mi raccomando, mi aspetto che ci siano tante visualizzazioni e condivide del canale. Se ci saranno tante visualizzazioni, ovviamente io continuerò a postare materiali gratuiti per tutti. Per John Dewey ricordatevi che il metodo deve essere strutturato. La struttura del metodo è per progetto. Relativamente all'educazione, asseriva che ci deve essere continuità tra educazione, tra scuola e società. Educazione, scuola, società. Analogamente a quest'ultima tematica, deve essere un'interazione individuo-ambiente. Benissimo, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, iscrivetevi, condividete i materiali. Io vi auguro una buona continuazione di giornata e al prossimo video. un caro e affettoso saluto.